Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio e Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi a un ulteriore appuntamento. Allora, abbiamo intrapreso anche questa strada. Anche se la utilizziamo come contorno, diciamo che il nostro lavoro principale al 99% sarà sempre, almeno che non cambieremo idea, i video. Anche perché è bene dare la faccia, non vogliamo fare come i dindirindini che dopo 20 anni che abbagliano mai una volta, che danno la faccia sempre dietro una foto. Questa è la loro franchezza. Ma bando alle charle e vogliamo dedicare questo podcast a un argomento che comunque abbiamo già trattato in più video. E come già detto, in questi video praticamente sta circolando, or sono alcuni anni, non pochi, diversi, diversi anni, forse molti, che in alcuni ambienti messianici, dentro lo stato di Israele e si vocifera, ovvero si insegna, si insegna che i famosissimi 144 mila che trovate in Apocalisse, capitolo 7, capitolo 14, praticamente sono persone che o tutti o comunque un grandissimo numero sarebbero già nati di nuovo, quindi sarebbero in questo momento comunque diventati cristiani. Cristiani? Sì, cristiani. E già sarebbero stati chiamati dal Signore e a differenza del resto della Chiesa, questi 144 mila, pur facendo, dico io, no? Due più due fa quattro, pur facendo parte della Chiesa, perché se sono nati di nuovo, se hanno accettato Yeshua come Hamashia, è ovvio che fanno parte della Chiesa. E quindi, nonostante fanno parte della Chiesa, quando ci sarà il rapimento, tutti saranno rapiti, meno che costoro. Bene. E per condire il tutto si tirano fuori delle situazioni che non stanno né in cielo e né in terra, ovvero che nel muro del pianto il Signore si sarebbe manifestato ad alcuni ebrei ortodossi o ultra-ortodossi e che Yeshua Hamashia, Gesù il Signore Cristo, si sarebbe palesato a loro e questi sarebbero diventati dei cristiani e che a seguito di questa esperienza, ovvero in questa esperienza, il Signore Gesù gli avrebbe detto che costoro sarebbero parte dei 144 mila. Tutto questo, agli occhi di colui che, permettetemelo, non capisce un'acca di Bibbia, può sembrare accattivante, accattivante. Bene. Mentre invece chi conosce la Bibbia altro non può far che stracciarsi le vesti. Come sempre chiedo scusa se in questo podcast non sarò ultra-esaustivo, ma voi conoscete il mio modo di fare, ovvero che io sempre improvviso tutto. E anche questo podcast è improvvisato. Quindi mi sono semplicemente aperto quattro paginette della parola di Dio. Tutto qua. E poi vada come vada. Allora, per quanto riguarda questa esperienza che alcuni avrebbero fatto, ovvero che il Signore Gesù si sarebbe palesato a questi ortodossi dicendogli voi farete parte dei 144 mila e che questi, a seguito di questa rivelazione, sarebbero diventati cristiani, beh, voglio ricordarvi quello che è scritto in Galati, capitolo 1, dal verso 8 in poi. Vado a memoria perché non ce l'ho adesso aperto. Galati 1,8 recita quanto segue. Quando anche noi o un angelo del cielo, lo dico con parole mie, vi annunziasse un Vangelo diverso da quel che noi vi abbiamo annunziato, sia questo anatema, cioè separato da Dio, cioè maledetto. Quindi la parola di Dio non è che è contraria alle esperienze, anzi le promuove. La parola di Dio non fa altro che raccontare esperienze che i credenti fanno. Sì, certamente, ma le esperienze devono fondare sul fondamento, ovvero la parola di Dio, perché il fondamento non sarà mai l'esperienza, piuttosto ciò che è scritto nero su bianco. E la rivelazione anche deve corrispondere al fondamento, cioè quello che è scritto nero su bianco. Quindi interessante questa esperienza, tra virgolette interessante, che alcuni vanno annunciando per convalidare la loro, voglio utilizzare un termine forte, cretinata, cioè che ci sarebbero questi 144.000 che sarebbero già stati chiamati e che già sarebbero cristiani in questo momento e che non saranno rapiti il giorno del rapimento della chiesa. Wow! Io vorrei sapere, a parte queste esperienze che loro portano, nella parola di Dio dove sta scritto che la chiesa di Gesù Cristo sarà rapita a eccezione fatta dei 144.000. Dove sta scritto? No, ma c'è stata questa esperienza. No, no, la domanda non è cerca di capire l'oggetto, cerca di capire la domanda. La domanda non è quali esperienze conosci che le persone abbiano fatto? Perché sapete, ha dei pazzi che sognano, o magari, scusate, se mangiano una carbonara e ci hanno una visione, perché se sono mangiati due chili di pasta, ok, ce ne sono tanti, va bene? Quindi non è l'esperienza che Tizio Caio ha fatto, la domanda è un'altra. Nella Bibbia dove sta scritto che nella chiesa di Gesù Cristo saranno rapiti tutti i credenti meno che 144.000. Dove sta scritto? Così come, perché l'ermeneutica richiede le domande e le domande corrette, dove sta scritto che i 144.000 si convertiranno prima del giorno del Signore? Dove sta scritto? È una domanda che io faccio, perché se tu leggi la parola di Dio ti accorgerai che dei 144.000 fuori dal libro dell'Apocalisse non se ne parla. I 144.000 sono una rivelazione che si trova, che si concretizza solamente, unicamente e tassativamente che dentro il libro dell'Apocalisse non fuori il libro dell'Apocalisse. Apocalisse capitolo 7, Apocalisse capitolo 14. Interessante notare che il giorno del Signore nel libro dell'Apocalisse comincia in due capitoli, in due punti. Uno è il capitolo 4, l'altro è il capitolo 6. Fammi un pochino aprire il capitolo 4. Apocalisse capitolo 4. Sì, ho detto bene. Perché Apocalisse capitolo 4 e Apocalisse capitolo 6, Alessio? Molto semplice. Apocalisse 4 e Apocalisse 6 sono lo stesso preciso momento. Ciò che cambia fra il capitolo 4 e il capitolo 6 è il posto, ovvero nel capitolo 4 ti descrive ciò che accade sulla terra. Quindi questo è molto delucidante e ti fa capire come la Chiesa non può passare per questo giorno. Subito dopo il capitolo 4, c'è il capitolo 5 che è molto incisivo sia per quanto riguarda l'esistenza della Trinità e sia per quanto riguarda un'ulteriore conferma che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Poi si va nel capitolo 6, c'è sempre l'inizio della grande tribolazione, ciò che accade sulla terra, e dopo immediatamente c'è il capitolo 7 che ti annuncia che in quel momento stanno nascendo questi 144.000 che erano marchiati del marchio di Dio ovvero segnati che dir si voglia e dice Giovanni nel verso numero 4 che io di il loro numero quelli dei segnati 144.000 e mette nero su bianco che vengono da tutte le tribù dei figli di Israele e a scanso di equivoci, hai visto mai, non capisci, inizia con l'elenco analitico, quindi della tribù di Giuda 12.000 segnati e poi Rubenne e poi Manasseh, Simeone, Levi, Issacar, Zabulon, Giuseppe, Beniamino e così via discorrendo. Benissimo. Quindi ti dice proprio che dentro Israele, ok, questi 144.000 che non vogliono essere un grandissimo risveglio come anche io quando ero giovane nella fede pensavo, in fondo gli ebrei nel mondo e in Israele sono circa 20 milioni su per giù. Beh, su 20 milioni solo 144.000. più se ne convertiranno degli altri, sì, ma non si vede mai nel giorno del Signore questo grande risveglio come alcuni lo vogliono dipingere, ma questa è veramente un'altra storia, adesso non è l'oggetto che vogliamo trattare. Però già che ci stiamo, una piccola parentesi, non fa mai male. E quindi possiamo vedere che questi 144.000 nascono per la prima volta e vengono segnati dentro il giorno del Signore, dentro il giorno del Signore. Infatti la grande tribolazione inizia e nel verso 3, quando questa inizia, nel verso 3, c'è un alto, dice alt, fermati, non danneggiare la terra, né il mare, né gli alberi, finché noi non abbiamo segnati i servitori del Dio nostro in sulle loro fronti. Cioè, nascere di nuovo. Quindi aspetta a iniziare. Dentro il giorno del Signore ti dice, aspetta a iniziare che questi devono essere segnati, quindi chiamati, quindi salvati, quindi non possono essere chiamati, non possono essere salvati prima del giorno del Signore. Ma quelli che non amano la parola di Dio, dicono sono già nati di nuovo, già sono stati segnati, già sono stati chiamati, già Yeshua Hamashia gli è apparso e già gli ha detto che questi, quindi questi già sono cristiani e in più gli avrebbe detto che non saranno rapiti. Quindi in loro non alberga nessuna speranza. Non hanno speranza. Perché la Chiesa ha una speranza, quella del rapimento della Chiesa, che non passerà, tra l'altro, per queste cose. Invece questi che speranza hanno? Mentre invece questo è completamente in linea con Apocalisse 13, che a differenza di tutto quello che dice prima, nei libri che vanno da Matteo in poi, prima dell'Apocalisse, praticamente la parola di Dio dice sempre che per la Chiesa ci sarà una speranza. Per esempio, per quanto riguarda un discorso puramente materiale, ovvero Matteo 10, ti dice quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Quindi, tradotto, ci sarà sempre un posto dove fuggire. Sempre. Ma in Apocalisse 13 possiamo vedere nero su bianco che ci viene detto che non ci sarà un sol posto dove fuggire. Quindi, dentro il giorno del Signore, l'unico modo per conquistare, è sempre una grazia però, per conquistare la vita eterna è lasciarci le penne. E infatti questi 144.000 sono in perfetta linea con questo ragionamento perché poi li ritroviamo in Apocalisse, capitolo 14, morti. Alcuni dicono, no, che quando qui nel capitolo 14 dice, ecco, io vedi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano 144.000 e dicono che qui è la terra. Quindi, secondo costoro, il Signore Gesù Cristo andrebbe in giro con loro visibilmente sul pianeta Terra, in Sion, quindi nella cittadella di Sion, in Gerusalemme e così via discorrendo. No, qui c'è un quadro celeste, un quadro celestiale, ok? E qui fa capire perfettamente, perché poi nel verso 13 cantavano un cantico nuovo davanti al trono, quindi al trono e davanti e quattro animali. E quindi ti dice nero su bianco che questi si trovano in cielo. Perché? Perché sono stati morti, sono stati uccisi, sono stati assassinati e poi in Apocalisse 11 saranno assassinati anche i due testimoni. Ok, quindi cominciamo a vedere che non bisogna girarci, cioè non bisogna far chissà qual teologia per dimostrare in maniera semplice e chiara che i 144.000 non si possono, secondo quello che ci impartisce la scrittura, non si possono, non si potranno mai convertire al cristianessimo prima del giorno del Signore. Piuttosto la scrittura è estremamente enfatica in questo, ovvero che costoro si convertiranno certamente, unicamente, tassativamente dentro il giorno del Signore, quindi dentro l'Apocalisse. Punto. Ora, come secondo step e ultimo, interessante notare che quando, a proposito del rapimento della Chiesa, prima a Tessalonicesi 4 e prima a Corintesi numero 15, ci dice che il rapimento non riguarda, lo ripeto, non riguarda una parte della Chiesa, piuttosto riguarda la Chiesa. Sì, perché dire che i 144.000 non saranno rapiti significa dire che il rapimento della Chiesa riguarderà solamente una parte della Chiesa e questa è una aberrazione. Questa è una eresia e far dire alla parola di Dio ciò che questa non ha mai detto. Quando noi leggiamo prima a Tessalonicesi, capitolo 4, dal verso 15, leggiamo perciò che noi vi diciamo questo, per parola del Signore, che noi viventi, noi viventi, praticamente qui siamo nel Nuovo Testamento. Quindi noi viventi sono solo i cristiani. Tutti, non dice alcuni, noi, tutti, che saremo rimasti, quindi quelli che saranno rimasti, perché alcuni dicono noi, lui se l'aspettava. No, lui non se l'aspettava. Semplicemente lui fa parte del rapimento della Chiesa, quindi dice noi, pur sapendo che lui non sarebbe stato rapito come vivente, ma sarebbe risorto come morto. Ma è normale parlare in questo modo, ma adesso questo è sulla. Quindi noi viventi che saremo rimasti, infatti poi sottolinea, saremo rimasti sino alla venuta del Signore, non andremo innanzi a coloro che dormono. perciò che il Signore stesso, con acclamazione di conforto, con voci di arcangelo, con tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo. Quindi sta parlando di tutti coloro che sono in Cristo. Quindi se fosse vero che, non è vero, che ci sarebbero questi 144 mila che già sarebbero nati di nuovo, quindi sarebbero in Cristo, inevitabilmente sarebbero rapiti. Ma così non sia. Uno, perché non possono nascere di nuovo, non possono diventare cristiani fuori dal giorno del Signore, come abbiamo potuto vedere. E secondo, perché se ciò fosse avvenuto sarebbero rapiti, perché quello dice nero su bianco, coloro che sono morti in Cristo risusciteranno primamente. Poi noi viventi che saremo rimasti, e qui sta parlando della Chiesa perché siamo nel Nuovo Testamento, saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole a incontrare il Signore. E così saremo sempre col Signore. E poi dice di consolarci con queste parole, quindi predicare il rapimento della Chiesa è una consolazione. Hai chi omette questo insegnamento. A ricalcar questa grande verità, hai visto mai, ci penserà sempre l'apostolo Paolo, ma questa volta ai Corinti. Quindi, prima Corinti, capitolo 15, per esempio, il verso 23 dice, anzi, leggiamo dal 22. Impero che, siccome in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti saranno vivificati. Vedete come sottolinea il termine tutti, non una parte. Il rapimento della Chiesa e la risurrezione dei morti, che sono lo stesso evento, due situazioni diverse, ma lo stesso evento, che un evento dall'arto viene separato da un lasso di tempo lungo quanto un batter d'occhio. Ok? Ora, dice così, in Cristo tutti saranno vivificati, ma, verso 23, ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo le primizie. Poi, nel suo avvento, quindi, il primo che risuscitò fu lui, duemila anni fa. Poi, nel suo avvento, saranno vivificati chi? Coloro che sono di Cristo. Quindi, se costoro fossero nati di nuovo, inevitabilmente, inevitabilmente, verrebbero rapiti. Quindi, non solo la scrittura non dice che ci sarà un rapimento per una parte della Chiesa, mentre invece un'altra parte, composta da 144.000, non verranno rapiti. Non solo non dice ciò, ma lo condanna. Incredibile. E, stando sempre a questo discorso, nello stesso capitolo, più avanti, dal verso, dovrebbe essere il 50. Sì, che verso 50 dice delle grandi verità, no? Per esempio, carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, parimente la corruzione non può ereditare l'incorruttibilità. Questo è molto importante. E poi, verso 51, ci dice, ecco, io vi dico un mistero. Non già tutti morremmo, ma ben tutti saremo mutati in un momento e in un batter d'occhio al sonar dell'ultima tromba, che non è la tromba dell'Apocalisse, quella dell'ultimo angelo, perché quelle sono trombe di giudicio, uno, secondo, sono trombe che vengono suonate dagli angeli, mentre invece la tromba, in prima Tessalonicesi, capitolo 4, la suona lo stesso Cristo. Verso 52, prima Corinti 15, ci dice, perciò che la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Abbiamo letto prima quelli che sono in Cristo e il tutto in un battere d'occhio. Quindi, cari amati, la chimera, che alcuni stanno annunciando che ci sarebbero già questi 144.000 chiamati, nati di nuovo cristiani, che già il Signore gli è apparso e gli avrebbe detto che sono i 144.000 della grande tribolazione e che resteranno qui e non saranno rapiti. Beh, fuggite, cioè quando si arriva a sognare in questa maniera, così come sbagli qui, sbaglierai ovunque, perché ormai hai perso l'unzione e non c'è più niente da fare. Fuggite da tutti questi che portano questi insegnamenti così insensati, così discostati dalla veridicità biblica, discostati dal contesto, dal fondamento biblico che va dalla Genesi all'Apocalisse. cari amati, la verità è quella che ci dice la scrittura, nero su bianco, indubbia, chiara, cristallina, trasparente, dissetante, come l'acqua viva, perché la scrittura tal vuol essere, acqua viva che disseta, quindi che dà vita. Che dir di più, cari amati? Potrei proseguire, sì, ma voglio essere piuttosto incisivo e chiuderlo qui, questo piccolo insegnamento già impartito, ma in formato video, questa volta in formato podcast. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti, se il Signore vorrà. Ci si vedrà nel prossimo videoprogramma. Sorridi, che Gesù ti ama perché ti vuole salvare. Shalom, Maranatha, Baruch Hashem.